benvenuti nella cucina di gilda che ci sta a preparare una cosa buona ciao amori allora oggi preparo una bella cosa mer porpettone ripieno di melanzane a modo mio che meraviglia la mamma vede che ci avemo quanta mattina mi sono svegliata così ecco il messo alzata pure all'alba sanzata che solo ancora non c'è la parte che c'è proprio oggi il sole comunque ok adesso queste l'ho tagliate tutte una bella melanzana va bene allora qui c'è 350 grammi di macinato questo è di vitellone poi un uovo tre fette di pane in cassetta quella latte parmigiano poi prezzemolo e l'aglietto tritato ma qui ha messo latte allora questo è con latte sì con latte a bagno con latte ok va bene amori va bene citare la nostra adesso mi serve uno scalogno e la padella ecco fatto va bene adesso ho messo scalogno e olio e vado a soffriggere vai ecco sta soffriggendo leggero mettiamo le melanzane ecco metto un po di prezzemolo e aglio e restante lo tengo per la carne vedete adesso preparo la carne ecco fatto la condimo bene bene allora un po di parmigiano potete mettere un pecorino e pecorino e quattro famosi in quella cosi e bello stavolino cinque cucchiaini un po di pepe queste rende manca non vabbè vabbè poco e poi mette un po di sale ecco fatto e adesso mettiamo il pane ecco fatto ecco io preferisco questo al latte se scioglie meglio vabbè però buono pure il pane tante volte metto pure il pane casareccio e mischiamo tutto ragazzi vai gildarella allora eccole qua e allora manca proprio un minutino metto un po di sale un minutino alla cottura ecco qua un po di sale fatto adesso giro un secondino e poi spengo allora le melanzane sono cotte eccole qua allora qui c'è un pezzettino di formaggio qui c'è quello affettato allora adesso nell'impasto metto un cucchiaio di pangrattato anzi uno e due ecco la si è ecco fatto e giriamo mettiamo un po di pangrattato qui sopra la carta forno ecco qua ecco qua e adesso mettiamo la carne ecco fatto e la speriamo bene bene allora adesso mettiamo un po di formaggio affettato eccolo qua ecco allora questo è un porpettone gagliardo è questo proprio semplice semplice allora adesso allora adesso mettiamo le melanzane allora io le voto tutte e poi me le sistemo con le mani ecco fatto allora questo è formaggio da tavola quello affette che lo vengono già bello affettato che qui invece ci penso io non contenta ce lo grattugiamo pure vai ecco ti è guarda che roba ragazzi miei che spettacolo una grattugiata di pepe che è bello potete da un fascino allora qui teniamo così ecco allora adesso a rotolamo è piano piano qui ce l'ho a pazienza io non lo dico ecco fatto vedete ecco qui dovete lasciare parecchio spazio perché adesso esce un po fuori capito io non voglio fai sci fuori ecco fatto allora intanto qui un po lo chiudo un po qui lo chiudiamo anche di qua ecco e poi finimo da rotolare e poi lo risiggiamo bene tanto un po di formaggio esce sempre quando all'ultimo passo un po d'olio nella carta forno ci mette il pangrattato io faccio così e va bene va bene girare la nostra ecco è chiudo bene la chiusura e cerco di chiudere un po meglio è con la forchetta così ecco fatto sta misura stampo girare sì allora 32 oddio per 12 30 per 12 va bene amori va bene allora adesso adesso che l'ho sistemato bene lo vado a infornare a forno sta ad io metto a 180 già è caldo il forno 180 170 va bene dopo vi faccio sapere quanto c'è voluto per coce se va bene va bene namo vai giddare eccolo qua pronto è ecco fatto mamma mia ragazzi che spettacolo mamma mia ragazzi che spettacolo mamma mia gildare ma questo è pure buono eh guardate un po' mamma mia che meraviglia guardate un po' una goduria gittarella una goduria qui ci hai presa tutti va a gola proprio guarda bene brava gittarella fatelo perché è proprio buono eh questo piace a tutti ma che vuoi dica fa raga ecco uno spettacolo proprio buono buono è questo eh guardate com'è venuto bello buono buono poi melanzane dentro dai questo proprio è un piatto un piatto forte mio eh eccola è partita vai gildare mamma mia guardate la faccetta la faccetta dice tutto ragazzi ragazzi ragazze è favoloso buonissimo fatelo perché è buono eccolo è uno spettacolo guardate che bello va bene ecco fatto mamma mia gildare dai che c'è mu fame qua va allora amori miei adesso io vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di gilda tutti è piatto ricco è piatto ricco mecefico ecco